Ho sempre pensato che gli Stati Uniti nel nostro tempo avessero avuto un solo buon presidente, Jimmy Carter, un tipo schivo, meno incline di altri a scattare sull'attenti e obbedire agli ordini dei veri padroni degli Stati Uniti. Non era molto amato dagli americani, non si è mai capito il motivo. Forse per l'attività che svolgeva prima di diventare presidente degli Stati Uniti, il coltivatore di noccioline. Embè, qualcuno avrebbe detto. Ma anche questo buon trentanovesimo presidente degli Stati Uniti ha finito per mostrare la corda come appariva. Da quando si è saputo che nella rincorsa alla Casa Bianca sta appoggiando con tutte le sue forze Hillary Clinton. Al che si è capito definitivamente che il famoso sogno americano, tradotto, significa continuare a vivere alle spalle degli altri popoli. Lo abbiamo visto, Carter, in televisione qualche giorno fa, fisicamente piuttosto giù di carrozzeria, come si dice. Ma speravamo avesse salvato il cervello. Invece la nostra era una previsione ottimistica. Perché non ha capito che Hillary Clinton è una psicopatica, un'alienata pericolosa, che non ha senso della misura, neppure quello della pietà, che l'abbiamo vista schignazzare mentre assisteva a delle uccisioni in diretta televisiva e che intende continuare a perseguire una politica di aggressione nei confronti della Russia, della Cina e di tutti coloro che considera suoi nemici prima che nemici degli Stati Uniti, suoi personali. Dall'altra parte sappiamo che c'è un razzista dichiarato che non fa mistero di esserlo, che fa delle dichiarazioni sulle donne raccapriccianti. Questo l'abbiamo sentito con le nostre orecchie. Ed è quello ciò che offre il convento, si diceva una volta. Ma in compenso fatta la Tara è disposto a dialogare con tutti. E nel nostro tempo, con una guerra alle porte, è un tratto fondamentale questo. Utilizza in sostanza l'adagio e la prudenza dei ricchi, che forse è l'unica qualità che hanno quando non sono petrolieri o fabbricanti di armi. La prudenza. Sì, perché il ricco, nella sua vita, avendo avuto tutto, tutto ciò che voleva, teme gli sconvolgimenti e le guerre, che potrebbero fargli perdere improvvisamente tutto ciò che possiede.